Siamo nella sala di lettura dell'archiginnasio in fondo alla sala sulla destra non so se avete mai notato che dietro questo pallone di legno si nasconde una porta attraverso la quale possiamo scegliere in cima scala molto stretta ma ne vale la pena perché la vista che si vede avanti è sicuramente impagabile eccoci arrivati